Presidente Sappa, allora è un colpo di scena dopo l'altra, alla fine queste dimissioni rientrano, rientrano in zona Cesarini all'ultimo momento, c'è questo accordo per una prospettiva di programma, cioè lavorare su grandi temi, l'ambiente, le strade, istruzione, turismo, eccetera, e c'è anche una prospettiva però molto più semplice e pratica che riguarda rivedere la Giunta, rivedere gli incarichi, le poltroni. Non è proprio così, nel senso che la prima proposta che io ho fatta ai consiglieri è stata quella, guardiamoci negli occhi e diciamoci se vogliamo andare avanti, perché le dimissioni si danno una volta sola. Io le ho date e so quanto mi sia costato, le ritiro se mi dite tutti siamo con te e andiamo avanti, ma convintamente avanti. Questo è stato il primo passaggio e direi che ho avuto questo conforto certo, meditato e arrivato come sempre in queste cose, ahimè, all'ultimo momento. Però forse per questo, perché è maturato in venti giorni, bene augurante. Il secondo passaggio è andare avanti per rimanere in questa fase di stallo o per cambiare? Andiamo avanti per cambiare e per cambiare bisogna cambiare, bisogna avviare un percorso che noi abbiamo individuato negli obiettivi prioritari. Che cosa chiede la gente, i nostri cittadini? Abbiamo messo a fuoco quei problemi che lei ha individuato e abbiamo detto modelliamo su questo la giunta che si andrà a formare, che si andrà a rideterminare o che si andrà a confermare. Abbiamo un percorso per capire che in questo momento soddisfa queste esigenze e queste condizioni. Percorso condiviso sia dai consiglieri sia dagli assessori, che come sapete avevano già rimesso nella mia disponibilità le loro deleghe e da lunedì ripartiamo in questo senso.